E' un po' pazzo e una sorella un po' ebete. Il fatto che il posto sia quello non è secondario, lo hanno scelto loro, lo hanno arredato, sistemato, ripulito, ma io sta facendo un lavoro straordinario per i suoi fratelli, il lavoro migliore che si potesse fare, e soprattutto per Lorenzo, che è senza dubbio più debole di loro. Il rompere ora sarebbe devastante. Loro non vedono lo squalore che vediamo noi, per loro quel tugurio è la migliore delle case possibili. E' un po' pazzo e un po' pazzo e un po' pazzo. Non so, non so, non so, non so! Il giorno arriverà, ci troverà superstiti della notte sopravvissuti.